ciao ragazze eccoci di nuovo insieme a questa nostra rubrica del medì domanda veniamo subito alle domande di questa puntata la prima è perché il laser che è così efficace nel trattare le macchie piccole circoscritte o quelle percheratosiche non è altrettanto efficace per il melasma e l'altra domanda è come faccio a sapere se la mia macchia oppure il mio melasma sono profondi quindi dermici o superficiali quindi epidermici iniziamo subito dalla prima per capire bene perché il laser non è troppo indicato per il melasma è importante capire un pochino più a fondo questo anestetismo il melasma nella quasi totalità dei casi è di natura dermica quindi profonda e nella totalità dei casi è insieme a in sé una componente infiammatoria quindi infiammazione e questa sorta di eccesso di melanina di pigmento viaggiano di pari passo quindi non si può intervenire non è indicato intervenire con il laser o con qualsiasi trattamento che porti infiammazione nel trattamento del melasma quindi tutto ciò che crea infiammazione non è indicato nel trattamento del melasma in questo caso specifico il laser non è indicato per il trattamento del melasma perché perché il laser provoca infiammazione e soprattutto considerato che nel melasma la melanina è abbastanza radicata in profondità richiede più sedute o richiede comunque di fare un'azione piuttosto strong questo ha in sé non solo una componente infiammatoria come conseguenza ma anche la possibilità di eventuali effetti collaterali che possono essere delle macchie bianche che possono essere delle decidite che possono essere addirittura delle macchie ancora più croniche ancora più profonde a volte da mano un pochino più un po meno attenta ovviamente se vi rivolgete a un professionista di livello questo non accade però anche a volte può accadere un esito cicatriziale quindi ecco non trovo questo rimedio assolutamente indicato per il melasma vediamo poi alla seconda domanda come si fa a sapere se il melasma è epidermico o dermico melasma ma anche altri tipi di macchie allora oggi ci sono vari metodi per poterli per poterlo sapere e sono le micro camere ci sono delle camere speciali che analizzano la melanina l'infiammazione che sono quelle che trovate nei centri bisol ovviamente nei centri bisol che hanno a disposizione questa questo strumento per l'analisi della pelle tra l'altro un servizio gratuito che viene offerto sempre nei centri bisol ma potete trovarlo anche con alcuni con altri sistemi dal dermatologo all'interno di diverse farmacie e qual è quest'altro sistema è la lampada di wood sono quelle lampade blu con dentro i raggi ultravioletti nella quale quando mettete la faccia si sembra dei piccoli mostri a sono quelle lì in quel caso quando il melasma è di natura dermica la macchia non si accentua invece quando è di natura epidermica la macchia si accentua quindi questo può essere utile ma c'è un altro piccolo test che potete fare da soli se non volete sottoporvi a nessuna visita quando le vostre macchie in presenza di calore quindi che sia un bagno turco una sauna o semplicemente ne state stando all'interno della macchina solo con il calore le macchie si evidenzano indica che il melasma è di natura dermica perché perché quando il melasma è di natura dermica la melanina si dispone intorno ai vasi ed è semplice un aumento della temperatura per far sì che la macchia si accenda questo è quello poi infatti ne ho parlato anche l'altra volta che succede di solito anche in estate quindi ve ne accorgete infatti intanto mi scrivete martina io sto all'ombra sotto l'ombrellone il cappello la protezione gli occhialoni le macchie si accentuano lo stesso il motivo è sempre lo stesso è sufficiente il calore per accendere quella parte dermica ma non mollate mai perché come si spenge il calore tutto ritorna nella normalità e il vostro percorso per trattare il vostro melasma può continuare indisturbato dubito di aver aspettato tempi però spero di esservi stata utile ci vediamo il prossimo lunedì ciao